Allora, se l'altro ordine del giorno era un po' criptico per usare le parole di Stefano Mugnai, questo è un po' più chiaro, diciamo, ed è stato anche un argomento abbastanza discusso nel contesto della Commissione, tra l'altro, e diciamo, tuttavia si è portato dietro un errore, come ho sottolineato durante la discussione della legge prima, perché effettivamente si fa riferimento a un preambolo che dovrebbe essere sbagliato in quanto all'articolo 88, così come è uscito dalla Commissione della legge 33, si legge che il Consiglio Sanitario regionale è organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Quindi effettivamente è stata accolta poi in Commissione la richiesta nostra dell'opposizione di considerarlo anche organismo consultivo del Consiglio. Tuttavia il punto 12 del preambolo dice il Consiglio Sanitario regionale, in ragione delle sue competenze tecniche, che gli sono proprie, espleta le funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale, quindi va aggiunto e del Consiglio regionale, c'è un piccolo errore che va corretto nel preambolo. Tuttavia è anche vero che questo nostro ordine del giorno si riferisce al fatto più volte sottolineato dagli interventi almeno dell'opposizione e in parte sia in Commissione sia qualcuno della maggioranza ha sottolineato quanto si corre il rischio di fare un po' da passacarte della Giunta, cioè di svilire un po' il ruolo e la sovranità di questo Consiglio. E quindi la raccomandazione diventa quella di fare in modo che ci si riappropri all'interno di questo Consiglio di un valore di sovranità. E quindi ci si dovrebbe impegnare, visto che appunto l'articolo 11 dello Statuto della Toscana recita il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione, allora noi chiediamo che ci sia un impegno in questo ordine del giorno ad integrare comunque nella riforma sanitaria anche il Consiglio regionale quale soggetto che recepisce le indicazioni di tutti gli organismi consultivi previsti, ma che naturalmente ha anche il significato di poter riutilizzare gli organismi consultivi previsti. Così come il Consiglio regionale dovrebbe avere e l'ho sostenuto anche rispetto alla carenza di dati epidemiologici da cui secondo noi, perlomeno non abbiamo visto i dati, parte la riforma come lo è anche l'Agenzia regionale di sanità, la quale per esempio dovrebbe nel prossimo anno probabilmente produrci dei dati più puntuali rispetto al fatto che i comuni non hanno i referti epidemiologici, evidentemente per problematiche di carenza di personale nelle ASD per problematiche di epidemiologi che non sono in numero sufficiente, mentre l'ARS con gli strumenti informatici attuali è in grado probabilmente di produrre qualcosa di buono. Allora riaffermiamo con questo ordine del giorno, riaffermiamo un impegno preciso da parte di noi tutti nel ridare valore, nel ridare competenza, nel ridare un sistema di validazione di tutto il percorso che viene fatto a livello regionale all'interno del Consiglio regionale.